Li piavate per matti, come direbbe il buon Fabio, come dirà sicuramente anche Gabbo, visto che ormai è un modo di dire per identificare le grandissime rimonte, incredibile, inimmaginabile, che cosa è accaduto all'Anfield Road del Barcellona per il secondo anno consecutivo, la via nerderetano, ragazzi, si fa recuperare pure quest'anno, incredibile, io non vorrei essere in questo momento un tifoso del Barcellona, o meglio, lo vorrei essere per i titoli che ha vinto, compreso anche quest'anno, visto che si è portato a casa anche il campionato, ma in generale in Champions League, ultimamente per il Barcellona, direi che sono veramente, come posso dire, dei bruciori molto, molto, molto importanti nella zona bassa e del posteriore, ecco, del corpo, ragazzi, veramente incredibile, si è fatta recuperare pure quest'anno, stavolta si è fatta recuperare dal Liverpool del Mago Klopp, che per il secondo anno consecutivo è in finale di Champions League, poi non venite mai a dire che l'allenatore non è importante in una squadra, un allenatore come Klopp, che col Borussia Dortmund ha fatto cose assurde, è andato in Inghilterra e zitto, zitto, 4-4, guardate cosa sta combinando con Liverpool. L'anno scorso non è riuscito a portare a casa la Champions, complice del fatto di non avere un grandissimo portiere e il fatto che il Real Madrid era effettivamente una squadra troppo più forte, quest'anno ha delle grossissime possibilità di portare a casa questo trofeo, visto che dall'altra parte in finale molto probabilmente prenderà o l'incredibile Ajax, che non va assolutamente sottovalutata, anzi, io ti ferrò Ajax nel caso, o addirittura il Tottenham, però tra le tre, ecco, la squadra superiore dovrebbe essere il Liverpool. Ragazzi, Klopp poi quest'anno con Liverpool sta facendo cose assurde, cioè è in lotta per arrivare a vincere la Premier League con oggettivamente, ragazzi, una squadra che non è, parliamoci chiaro, non è così tanto forte. dai, i giocatori, certo, in Italia magari sarebbe una squadra equiparabile, sì, forse un po' più forte del Napoli, è poco poco meno forte della Juventus, ecco, se così possiamo provare a dire, però comunque non è una squadra da arrivare per due anni consecutivi in Champions League, vorrà dire qualcosa avere un allenatore capace, un allenatore, un'altra, e oggi l'ho dimostrato, l'ho dimostrato distruggendo il Barcellona, un 4-0 secco, giusto, con la cattiveria giusta, con la voglia di arrivare avanti, il Barcellona che fa proprio capire di essere in difficoltà con le squadre che ci mettono la cazzimma, che ci mettono la voglia di vincere, come l'anno scorso a Roma, anche quest'anno a Danfield la pigliano nel culo, ragazzi, 4-0 addirittura, cioè, dopo il 3-0 della Roma, questo fa ancora più male, perché era praticamente fatta 3-0, cioè, potevano vincere solo 4-0 per passare e hanno vinto 4-0, cioè, gli hanno fatto anche uno in più rispetto alla Roma, incredibile, ragazzi, veramente, questi due anni per il Barcellona è veramente stata scritta la storia del calcio in negativo delle rimonte, è una cosa assurda, cioè, entrano di diritto nella top 3 già per le più grosse rimonte della storia della Champions League, soltanto in due anni, veramente una sfortuna incredibile per il Barcellona, sfortuna o forse un, non so, come posso dire, una paura dell'avversario, non metterci sempre il 100% o un credersi già arrivati? Ecco, secondo voi, quale di questi è? Secondo voi, perché il Barcellona per il secondo anno consecutivo è riuscito a farsi eliminare dopo un punteggio che era per loro strafavorevole? Secondo voi, questo Liverpool di Klopp riuscirà a vincere la Premier League e riuscirà a vincere la Champions League questa volta? Fatemi sapere in un commento qui sotto cosa ne pensate, ragazzi, incredibile, cioè, questi sono tutti spunti fantastici per me e per i prossimi video di storia del calcio.